Spiagge libere che continuano a dividere e che in molti casi potrebbero restare chiuse con i sindaci delle località costiere abruzzesi impossibilitate alla gestione di chilometri di arenile, dove trovare le risorse per garantire la necessaria sicurezza di centinaia di famiglie pronte ad usufruire di calette e spiagge ciottolose di cui il litorale abruzzese è caratterizzato soprattutto a meridione. E' per questo che i sindaci delle località interessate con la presenza del presidente del Lancia Abruzzo, Gianguido D'Alberto, in videoconferenza si sono confrontati sull'applicazione dell'ordinanza regionale numero 59 che disciplina la repertura di una serie di attività, comprese appunto le spiagge libere. E sotto questo aspetto i nodi legati agli accessi e fruizione pongono riflessioni relativamente alle incombenze che saranno in capo alle municipalità costiere. Sotto questo aspetto una delegazione del Lancia Abruzzo chiederà un incontro con il presidente Marco Marsilio per rappresentare le richieste di fondi urgenti per una corretta gestione, altrimenti non sarà possibile rendere fruibili le spiagge libere che così resteranno chiuse. Il sindaco di Rocca San Giovanni, Gianni Ghirito. Attualmente siamo fermi perché l'ordinanza fatta dalla regione sicuramente è un'ordinanza capestro per noi e non ci permetterà assolutamente di poter riaprire. Ma non è soltanto una questione di fondi, di economie che i comuni non hanno più, nella maniera più assoluta, ma è anche una questione di sicurezza e soprattutto di responsabilità. non si può fare, a mio modesto parere, un'ordinanza generica. L'ordinanza deve essere calata nelle singole realtà, nelle singole situazioni geografiche. Per esempio Rocca San Giovanni ha una situazione completamente anomala, penso, nello stesso tempo bellissima, perché io ho un'unica spiaggia libera, che è quella della Foce, di circa un chilometro, e poi ho un unico stabilimento balneare, che è quello del Cavalluccio. Ora, con l'ordinanza fatta dalla regione, io la Foce non la posso aprire nella maniera più assoluta, quindi sono costretto a chiudere, a impedire ai turisti di poter andare nella questa spiaggia, ed è una cosa bruttissima, ed è una cosa che sicuramente andrà contro tutte le regole del turismo, quel turismo che per tanti e tanti anni ci stiamo battendo di portare ad un certo livello. Quindi noi chiediamo, sintaci, tutti i sindaci della costa, di rivedere molto attentamente questa ordinanza e di fare in modo di aiutare i singoli comuni a poter meglio organizzare il proprio territorio, in base alle esigenze e alle caratteristiche, in geografia o meno, che il comune ha.